Perché nessuno ha il nostro futuro. Ma pensiamo anche ai bypass coronarici. Oggi si usano anche le mammarie, è vero, però? Sì, le mammarie per il bypass primario e le safene per il bypass secondario. Io diciamo che nella mia esperienza di pazienti conservati ho già avuto pazienti con safena conservata che è stata prelevata per un bypass coronarico secondario e anche per bypass periferici. Ma può anche succedere che a seguito di un trauma c'è la destruzione di vene profonde e con un sistema superficiale ancora efficiente più facilmente l'organismo trova delle vie collaterali.